Le regole che quindi bisogna presentare un progettino, che ne pensa la società? La società che poi fondamentalmente si traduce nella mia persona, pensa e l'ha già espresso a suo tempo, in tempi non sospetti, rappresentanti e amministratori del comune, che di tutte queste cose mi interessa poco. A me è stato raccontato un altro film, mi è stato detto che al Repi è stata concessa una concessione di 20 anni perché hanno investito 370.000 euro, io oggi sono a 315, quindi sinceramente vogliamo discutere se sono 17 o 18? Io non ho chiesto niente al comune, ho chiesto semplicemente l'allungamento della concessione perché dobbiamo iniziare a programmare la prossima stagione e perché no, vedere se ci sono le condizioni per poter fare una domanda di ripescaggio e su questo non c'è il parere di uno e il parere dell'altro, ci sono delle regole ben chiare, per potersi vedere accettare una domanda di ripescaggio bisogna avere lo stadio a norma secondo le obbligazioni che mette la Lega, quindi dai tornelli alla sala doping, alla sala medica, eccetera, eccetera, tutti i vari ammennicoli, quindi ho semplicemente detto signori io metto una deadline a fine febbraio perché poi dobbiamo avere il tempo di programmare. La concessione serve anche e soprattutto per ragionare su tutti i lavori che ci sono da fare, è nella mia testa cambiare il manto perché non si può combattere con l'erba naturale, a perché ha dei costi di gestione che sono monumentali, b perché fondamentalmente ovviamente non hai mai la possibilità di fare sempre la stessa prestazione perché un giorno è ghiacciato, un giorno è duro, un giorno piove, un giorno c'è il fango, sono tutte cose che mi sembra anche surreale dover sottolineare perché sono tutte cose che chi si interessa di calcio, quindi in questo caso per esempio la stessa trasporta dovrebbe già sapere. Ne abbiamo parlato cinque mesi fa, ne abbiamo parlato l'ultima volta, tre mesi fa, a me non mi interessa quelli che sono i problemi burocratici, le regole del comune, io non faccio un amministratore, faccio un altro mestiere, io penso di non dover presentare nessun tipo di progetto perché penso di meritarmi la concessione già per quello che ho fatto, senza che nessuno mi imponesse niente e già il fatto che mi si viene raccontato che per poter avere la concessione devo io raccontare cosa ho intenzione di fare, quanti soldi devo spendere, mi sento un po' preso in giro e allora siccome io rispetto tutti e rispetto anche il mio essere coerente, l'ho detto ora il primo giorno, io sono ospite in casa vostra, se non vi vado più bene, vi vorrei riprendersene e torna a casa sua e mi porto via tutto il baracone, è tanto semplice perché adesso richiacchiere, anche l'assessore che stamattina fa un'intervista dove ripete le cose di cinque mesi fa, io avrei avuto il piacere oggi di vederlo per spiegargli che fondamentalmente io sono stato molto chiaro, a me delle vostre cose, io non posso stare a perdere tempo a fare i piani finanziari, i progettuali su quello che voglio fare, anche perché non ho nessun obbligo, perché il Comune è lo Stato e le proprietà del Comune, io qui ho speso dei soldi, ho fatto dei lavori che non mi competevano e non mi sono permesso di chiedere niente, però non vi approfittate dalla mia bontà, perché tutto sono tranne di scemo, quindi siccome già oggi mi ruote abbastanza la chicchiera, perché quando sento, cioè qui parliamo parliamo, oggi c'era, meno gente allo stadio, ancora ricominciamo con la storia dell'allenatore questo e quell'altro eccetera eccetera, basta essere chiari, non vi andiamo bene, ce ne andiamo tutti a casa, vi lasciamo giocare i giovani fino a fine campionata, il problema lo risolviamo, adesso mi sono rotto i coglioni, e non è che, penso di essere molto chiaro, punto, non c'è altro da aggiungere, poi ci sarà modo di incontrare l'amministrazione comunale, ma la mia posizione è netta, nella mia testa io non devo presentare né progetti né tanto meno che devo raccontare che cosa ho fatto, perché quello che sono in grado di fare ve l'ho già dimostrato, adesso facciamo il contrario, fatemi vedere voi che siete in grado di fare per me, se no probabilmente non ci sposiamo, e allora signori, è stato bello conoscervi, voi ce la farete a campare senza di me, e io un po' più a mare in cuore per parecchi di voi, camperò anche senza di voi, semplice.